Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Buonasera, buonasera, benvenuti al nostro appunto di luce con Don Roberto Ponti. Buonasera Adriana, buonasera a tutti. Sono giorni in cui parliamo sempre e molto spesso di incoronazione, di sovrani e di monarchia. Sì, diciamo, io non sono molto caldo attorno a questo tema, però in effetti tutti ne parlano. C'è molto clamore, certo. E mi piacerebbe cercare di approfondire il significato dell'incoronazione che ovviamente ha un valore civile perché è l'inizio o meglio la confermazione del servizio di capo di Stato che svolge una persona, in questo caso Carlo d'Inghilterra. Però c'è anche un significato spirituale perché l'incoronazione in Inghilterra e in Gran Bretagna si svolge all'interno di un rito religioso che è guidato dall'arcivescovo di Canterbury. E quindi è tutto un rito particolare che ha una sua storia. Sì, perché la monarchia ha una base religiosa, ovviamente. Il fatto stesso che sia ereditaria ci conferma che c'è dietro un significato spirituale. Sì, cioè il potere di gestire la cosa pubblica, la popolazione di una nazione, è molto legato anche all'impegno religioso di questa attività. Cioè di governare bene è qualche cosa che si fa grazie all'aiuto di Dio. Certo. Allora c'è un grande legame tra l'incoronazione, l'inizio di un servizio pubblico e il significato spirituale e religioso che questo momento ha. Esatto. E tu hai preso come primo esempio... Ma c'è anche un video che fa vedere un po' l'attesa che c'è a Londra in questi anni. Sì, allora adesso... Perché ovviamente sì... Dobbiamo un po' ambientarci. Allora l'ultima trasmissione l'abbiamo fatta da Kinshasa con te. Adesso andiamo a Londra. Adesso andiamo a Londra e vediamo un po' com'è l'atmosfera che c'è in attesa, perché gli inglesi è da diversi giorni che aspettano queste giornate, il momento dell'incoronazione. Sì, questo è un grande, storico evento. Il principale evento pubblico legato all'incoronazione, il corteo del re, partirà da Buckingham Palace e attraverserà la capitale inglese per raggiungere l'abbazia di Westminster. In effetti l'incoronazione di Elisabetta è avvenuta in un'altra epoca e quindi i media non... Sono passati tanti tanti anni, è stata una trasmissione ovviamente bianco e nero nel 1953. Però anche quella aveva avuto un clamore pazzesco, no? Un'altra epoca, adesso si riprendono un po' le fila con le nuove dimensioni di un evento che ha una risonanza planetaria, perché tutti vogliono almeno vedere qualche secondo di questa inaugurazione, incoronazione. E poi hai ragione tu, nel senso che io credo che il 90% delle persone interessate a questo evento lo sono per l'aspetto politico, ma l'aspetto folcloristico, l'aspetto culturale e noi invece vogliamo approfondire l'altro, no? Che è quello più spirituale. Anche se poi le due cose si saldano, perché ovviamente gli abbigliamenti, la corona, tutti i vari momenti della cerimonia hanno un aspetto di esteriorità, ma poi hanno un significato più profondo, spirituale, che va un po' ricollocato. Anche questa idea di recarlo, di voler rendere questa cerimonia internazionale, multietnica, è un'apertura che ovviamente fa parte della sua politica, della sua volontà di essere aperto a questa realtà così multiforme che è il Commonwealth, che è il Regno Unito, ma rischia di perdere l'aspetto più profondo di un'incoronazione che è quello spirituale legato alla fede cristiana. Certo. Allora, adesso, visto che si parla di incoronazione, la corona è l'elemento fisico che contraddistingue il sovrano dagli altri. Tu sei partito come immagine da una corona che abbiamo qua in Italia, a Monza. A Monza noi abbiamo la corona ferrea, che è uno dei gioielli dell'orificeria antica più importanti perché ovviamente è la corona utilizzata per coronare i sovrani italiani dell'Italia, ma ha un significato che anche questo è religioso perché c'è dentro il chiodo. C'è il chiodo, il sacro chiodo, cioè le reliquie della crocifissione di Gesù e quindi la preziosità di questa corona è legata, sì, alle pietre preziose, all'oro con cui poi è stata allestita questa corona già a partire dal 400, 500, 600, una storia molto lunga, ma soprattutto perché al suo interno c'è il chiodo che si ritiene sia stato utilizzato per crocifiggere Gesù. Quindi questa è la ricchezza di questo gioiello dell'orificeria e il valore intrinseco di dare una corona a una persona che assume un potere particolare ma si richiama a quel potere particolare che è quello della regalità di Cristo nella sua croce che si dona per il bene, per la salvezza dell'umanità. Diciamo che la corona in questo modo salda l'aspetto spirituale con quello politico perché poi la corona dà anche il potere politico. Da Monza andiamo, torniamo in Gran Bretagna. Sì, perché la corona che sarà messa sul capo di Re Carlo ha anche questo un significato profondamente religioso, è stata utilizzata ovviamente in tante incoronazioni e si risale a quella di Edoardo che era un santo, un santo confessore che ha guidato il suo popolo nella fede e quindi anche qui ritroviamo anche dei simboli la croce che è posta al vertice di questa corona che richiama proprio il potere che viene da Dio e poi ci saranno anche lo scettro e il globo, qui non li ho presentati ma poi magari li vedremo più avanti anche questo poi fa risalire la realtà, la verità di questi segni all'origine divina perché una persona umana può diventare re soltanto perché questo potere gli è confidato da Dio e quindi è un impegno che si prende e che deriva proprio anche da quello che c'è nella Bibbia dall'incoronazione e dalla consacrazione. C'è anche questo aspetto nel rito che verrà poi portato avanti per incoronare e per sancire questo ruolo che è dato a Carlo della consacrazione con l'olio che è quello che è proprio tipico della proclamazione dell'assegnazione di un ruolo ai profeti, ai re, ai sacerdoti anche nella Bibbia come ci racconta l'Antico Testamento in particolare. Stavo pensando alla Spagna che è un paese laico per eccellenza dove però vige la monarchia e quindi è un esempio di stato dove il significato spirituale c'è nonostante poi il paese sia quasi laicista in certe cose. Tutte le monarchie europee, ce ne sono ancora diverse, che sono in carica e che mantengono questo potere istituzionale e che rappresentano la nazione, sono legate a una discendenza che poi fa risalire il loro potere in qualche modo al potere divino, a una scelta divina, cioè si è incaricati di svolgere quel ruolo nella società proprio perché si ha una fedeltà anche al ruolo religioso che si assume all'interno del popolo. E poi questo spiega l'ereditarietà, perché chiaramente una volta scelta una dinastia si prosegue e poi in tutti i paesi ci sono regole diverse, in alcuni c'è la legge salica, si trasmette solo per i maschi. A un certo punto ci sono delle interruzioni che vengono riprese. Cambiate le famiglie. Abbiamo anche un quadro su questo argomento che è molto evocativo, l'incoronazione di Napoleone Bonaparte. Che ha usato la corona ferrea. Ha usato la corona ferrea, però il papa che è presente è soltanto uno spettatore. Lui incorona la moglie, Paolina, e poi si auto incorona quasi per mostrare evidentemente, perché era quello che voleva, una separazione totale dal potere religioso, da quello civile. Anzi, ha fatto questo proprio in opposizione al potere della Chiesa e al valore anche spirituale. Quindi è quasi un segno proprio di separazione che Napoleone... E di supremazia della politica. E poi tu ci credi che abbia detto la frase Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca. Può darsi che l'abbia detto. Dicono che abbia detto questa cosa. E' anche vero che il percorso di Napoleone poi alla fine della vita ha ricollegato la sua esperienza anche a un'esperienza di fede. Quando era in esilio. Non vogliamo giudicarlo nella sua totalità. Diciamo, quello che ha fatto, forse in quel momento, aveva un significato che poi è maturato anche con scelte di vita e un orizzonte diverso. Quindi quello che ha fatto Napoleone ha un po' detto che il suo percorso a quel punto voleva veramente scindere il potere religioso dal potere civile o comunque creare una frattura che non metteva più in legame, in sintonia... Sì, perché voleva la supremazia del potere politico. La sua fede religiosa dall'impegno civile che aveva. Poi dopo, vabbè, le sue vicende hanno avuto un'altra strada. Un'altra storia. Adesso vediamo un'altra incoronazione a Milano. Un'altra incoronazione a Milano che è quella di Re Ferdinando. Ovviamente siamo nel Duomo di Milano e anche qui si usa la corona ferrea. Il Duomo addobbato in un modo tutto particolare... Questi sono gli Asburgo, perché è Ferdinando I d'Austria. Siamo con Ferdinando I d'Austria nel 1838, il 6 di settembre. Quindi vediamo che anche l'Italia fino a un certo punto ha vissuto di queste celebrazioni, ha vissuto di queste cerimonie così particolari, molto sfarzose, costruite proprio attorno al fatto che una persona assume un ruolo all'interno della società e lo fa anche in nome della sua fede, del suo percorso di fede cristiana. Questo perché la Lombardia faceva parte del regno austro-ungarico e quindi l'incoronazione è avvenuta a Milano, ma lui era l'imperatore d'Austria. Certo. E va bene, adesso vediamo un video invece che ci approfondisce meglio quello che abbiamo detto noi. Sì, spiega qualche dettaglio di quello che abbiamo già cercato di presentare. Vediamo. L'incoronazione ai nostri occhi rappresenta l'ascesa al trono di un sovrano. Ma in realtà questa avviene automaticamente per diritto ereditario nel momento stesso della dipartita del suo predecessore. In passato però non era sempre così. La chiesa venne coinvolta proprio per dare autorevolezza di fronte alla popolazione a colui che aveva diritto al trono. Attraverso la cerimonia di incoronazione, il monarca veniva investito del potere regale attraverso l'imposizione sul suo capo di una corona, ma soprattutto attraverso il rito dell'unzione, che ne sanciva la legittimità per grazia di Dio. Nell'antichità i concetti di regalità, incoronazione e divinità erano indissolubilmente legati. In Egitto il faraone era ritenuto il figlio di Ra, il dio del sole, così come nel Giappone Shintoista, dove vigeva il culto del dio imperatore fino al 1946, anno in cui Hiro Ito fu costretto a proclamare la dichiarazione di umanità dell'imperatore. Più in generale, nell'Europa monarchica, il concetto del diritto divino a regnare era la base di ogni monarchia assoluta. Le incornazioni sono cambiate nel tempo per una varietà di fattori sociopolitici e religiosi. Oggi è una cerimonia che celebra l'assunzione del potere del nuovo sovrano, ma come dicevo poc'anzi, non è un rito che ne proclama l'ascesa al trono. La maggior parte delle monarchie europee moderne hanno adottato cerimonie più semplici o ne hanno rinunciato del tutto. In Gran Bretagna sopravvive ancora, ma non solo! È l'unica che ancora conserva il rito dell'unzione, che seppur privo del significato divino, rappresenta il momento più sacro della celebrazione. Tanto che da sempre è nascosto ai presenti e alle telecamere tramite un baldacchino sorretto da quattro cavalieri dell'Ordine della Gerrettiera. La forma attuale della cerimonia risale al 1902, quando fu incoronato re Edoardo VII, figlio della regina Vittoria. Consiste in una processione di stato che da Buckingham Palace arriva all'abbazia di Westminster, al cui interno si sosseguono i diversi momenti del rito. Il riconoscimento, il giuramento, l'unzione, l'investitura, l'omaggio e infine un'altra processione che dall'abbazia fa ritorno a palazzo. Sebbene giri intorno a un servizio religioso, la cerimonia combina anche aspetti della Costituzione. Nel giuramento dell'incornazione, infatti, il monarca giura di governare i popoli del Regno Unito e del Regno del Commonwealth secondo le rispettive leggi e costumi, unico passaggio della cerimonia richiesto formalmente dalla legge. La formulazione di questo giuramento si è costantemente evoluta per riflettere i cambiamenti della composizione territoriale del Regno Unito da quando era ancora diviso in stati indipendenti all'epoca imperiale fino alla Costituzione del Commonwealth. Che poi Carlo III è il sovrano più vecchio che viene incoronato. Inizia il suo servizio a un'età già avanzata. È perché ha avuto una mamma molto longeva. Ha avuto una vita molto lunga e molto ricca di momenti importanti. Ci si aspettava forse che Carlo lasciasse subito il passo a suo figlio e invece no. Qualcuno, no, lui l'ha aspettato per tutta la vita. Adesso sente il dovere di prendere in mano lui il potere e la rappresentanza di questo potere per il Regno Unito e tutto il Commonwealth. Quindi è una realtà ancora molto vasta che lui deve gestire. Ovviamente non ha un potere diretto da gestire ma si serve poi delle istituzioni che nella democrazia che è quello che gestisce. Poi c'è una monarchia che è gestita insieme a... È una monarchia costituzionale. Quindi c'è il primo ministro col suo governo. Però i colloqui tra... Noi siamo... Chi ha visto The Crown, no, ha visto questi colloqui sistematici che avvenivano tra la regina Elisabetta e i diversi primi ministri adesso lo farà Carlo. Va gestito in questo modo il servizio che si fa alla nazione. Ovviamente è un servizio retribuito quindi il re lo fa dietro un compenso che la nazione gli riserva. Quindi tutta questa poesia che si vede attorno a questi aspetti io l'attenuerei un po'. Ecco, è un servizio retribuito che è una persona che fa parte di una dinastia quindi che è accettata da una nazione come chiamata a svolgere un ruolo di rappresentanza. Noi in Italia abbiamo fatto una scelta diversa. Esiste un rito particolare per l'inizio del servizio del Capo dello Stato che non è paragonabile a quello dell'incoronazione però ha degli elementi che possono essere messi quasi in parallelo. E diciamo che i poteri politici del sovrano d'Inghilterra con il Capo dello Stato in Italia sono simili. I poteri politici ovviamente stiamo dicendo. E quindi dobbiamo un po' rimettere e ricollocare le cose in questo ambito. E c'è un piccolo ultimo contributo che ci fa capire come un rito come quello che si svolgerà o si è svolto in questi giorni a Westminster e con l'incoronazione di Re Carlo fa parte di una modalità espressiva che è tipicamente umana e che va tenuta in conto o va presa in considerazione che è quello del rito. Sentiamo che cosa ci presenta questa studiosa. E definire proprio attraverso la ritualità che sia pubblica o privata e il gesto rituale, quello spazio sacro che rende la nostra esistenza e l'esistenza di ogni collettività sociale più significativa. Ma soprattutto ho voluto vedere e cogliere nel rito quel gesto sacro che di fatto fa dell'essere umano un animale razionale ma anche sociale. Un soggetto che in sé racchiude creare vari mondi un mondo che è cognitivo un mondo che è emotivo è un mondo che si incontra con tutti gli altri esseri umani e nulla come un rito riesce a creare una coesione sociale. E sì perché al rito assistono tutti. Sì abbiamo capito anche come Re Carlo ci tenga a creare un dialogo aprire un dialogo con tutta la popolazione che attorno a lui addirittura sapete che c'è un momento in cui tutti sono chiamati a dire la propria adesione a quello che avviene addirittura di consumare un pasto insieme proprio per festeggiare quello che poi è avvenuto. Per rappresentare la socialità. E quindi c'è tutto un aspetto sociale che il rito rappresenta in maniera molto forte quindi l'attenzione di tutto il mondo mediatica su questo momento significa che il rito ha ancora una grande importanza e noi dobbiamo stare attenti anche a quei riti grandi o piccoli che noi siamo chiamati a vivere nelle nostre famiglie nelle nostre comunità non togliamo tutto il significato che hanno questi momenti sociali di ritualità perché fanno parte del nostro vivere sociale del nostro appropriarci di quello che avviene attorno a noi. Non tutti i riti sono in coronazioni ma diciamo che l'importanza del rito è anche per metterci in contatto in comunione. momenti belli da sottolineare anche nella semplicità della nostra vita quotidiana non tutti siamo Re Carlo ma tutti abbiamo dei riti e dei momenti importanti da sottolineare e da condividere teniamoci tanto. E da condividere. Va bene ci fermiamo qualche istante di linea alla regia e poi qualche consiglio di lettura tra poco. Rieccoci sempre con Don Roberto Ponti che cosa ci consigli oggi da leggere? C'è un bel libro che ha preparato padre Francesco Occhetta un gesuita molto esperto in temi che riguardano la giustizia e la politica il libro che vi propongo ha per titolo Le radici della giustizia vie per risolvere i conflitti personali e sociali c'è questo tema che è quello della giustizia che prende aspetti più personali aspetti più comunitari aspetti legati alla legge aspetti legati alla vita familiare aspetti anche legati a esperienze come venire a contatto con un tribunale con un carcere tanti aspetti che questo libro cerca di presentare ordinatamente e ci possono essere utili per una riflessione personale per capire di più che la giustizia non è semplicemente quell'immagine che abbiamo dei due piatti della bilancia che devono stare in equilibrio ma è qualche cosa che va approfondito da tanti punti di vista ascoltiamo anche padre Francesco Occhetto che se ne parla che spiega proprio questo io sono stato per tanti anni nelle carceri quindi conosco il dolore di chi sta espiando anche dunque il punto è questo che durante l'espiazione o si fa espiare umanamente la pena o altrimenti rischiamo di non recuperare i nostri detenuti noi abbiamo il 62-63% di recidiva quindi significa che su mille persone 620 ripetono il reato e questo dice che non stiamo rieducando altri paesi hanno il 70 il 90% il Brasile ha quasi il 90% di recidiva quindi significa che il modello di recupero non sta funzionando ma non solo anche le stesse sentenze non diminuiscono il conflitto tra le parti a volte lo acquiscono noi dobbiamo questo è un discorso antropologico che sto facendo anche se volete politico se noi continuiamo a aumentare la tensione nella società come una pentola a pressione che non ha una valvola di scala salterà in aria tutta la società perché il vicino di casa sarà comunque sempre diciamo così in lite con il vicino nel quartiere lotte tra bande nella società lotte tra fazioni noi dobbiamo pensare a un modello che è quello riparativo in cui se vuole il reo può restituire o comunque riparare quello che ha rotto la vittima può ascoltare e far ascoltare dalla società il proprio dolore perché la vittima non è contemplata nei codici il dolore della vittima nessuno lo ascolta perché lo Stato si sostituisce alla vittima per dare una pena a chi ha sbagliato e poi deve esserci culturalmente una società che accoglie questo incontro e a volte non c'è questa società la giustizia è anche un incontro come sottolinea padre Occhetta e il libro ci aiuta a capire di che cosa si tratta a approfondire il senso della giustizia e cercare poi di viverlo anche nel concreto dell'esperienza personale chi parla soprattutto della pena quindi se la pena deve essere è uno degli aspetti che il libro affronta poi ce ne sono tanti altri questo è uno forse dei più interessanti da approfondire perché ci si chiede sempre se la pena debba essere reeducativa o retributiva cioè a cosa serve il carcere il carcere e tutte quelle sentenze che ci mettono e cercano di regolare delle situazioni chiamiamole di ingiustizia per ricreare la giustizia è un tema che va affrontato in maniera molto approfondita e questa lettura ci può aiutare va bene e poi il secondo libro il secondo libro è un librone perché è un libro molto ampio il grido dei profeti quindi è un libro che riguarda l'approfondimento della Bibbia parole senza tempo perché quando entriamo nella Bibbia affrontiamo delle tematiche che sono utili all'oggi pur andando indietro nel tempo e parlando di epoche molto remote Giuseppe Cavallotto un vescovo che ha preparato questo testo e il libro è molto ricco e quindi lo offriamo a chi vuole veramente fare un approccio biblico a questo ambito che è quello dei profeti dei libri profetici va bene per chiudere la frase sul punto di luce il punto di luce abbiamo cercato di parlare oggi un po' dell'incoronazione c'è un'incoronazione storica di una persona che assume questo ruolo in modo particolare noi guardiamo l'incoronazione principale che è quella di Gesù il vero re che si presenta a noi come un re capace di ricostruire la pace e la giustizia e allora la frase che vi lascio come punto di luce è Gesù Cristo un re venuto a servire a trasformare l'umanità attraverso la misericordia e il perdono è quella misericordia e quel perdono che chiediamo a tutti coloro che hanno un ruolo grande o piccolo nella società per richiamarsi al vero re che è Gesù Cristo questo ci aiuta a capire il senso di ogni incoronazione di ogni ruolo pubblico che si ha in una società in una comunità quindi il vero il vero significato dell'incoronazione va bene io ringrazio Don Roberto Ponti ringrazio la regia e soprattutto come sempre voi che ci avete seguito arrivederci questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana il settimanale della famiglia grazie a tutti